salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo angolo di pasticceria anzi oggi faremo vedere una bellissima ricetta di rosticceria a grande richiesta anche di tutti i miei iscritti che mi hanno commentato di fare una bella ricetta di un piatto tipico napoletano in forma rustica questa è la volta del nostro grande danubio il danubio è una semplice pasta brioche che è stata inventata diciamo che si sa che è stata inventata da un pasticcere di una nota pasticcere di napoli che abbia inventato a stavisburgo questa questa ricetta in favore diciamo del danubio il fiume ha fatto questa ricetta di questa brioche che però è versatile in varie in varie forme andiamo a vedere la nostra magnifica ricetta grazie a tutti 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 grazie a tutti